Negli ultimi cinque anni, Bergamo è diventata più attrattiva e dinamica. È ripreso il mercato immobiliare. Anche le imprese e le attività commerciali sono cresciute. E infatti gli occupati sono aumentati del 4%. Il nostro aeroporto è il terzo scalo italiano e dà lavoro a 24.000 persone. Finalmente Bergamo è una destinazione turistica conosciuta nel mondo. Sì, molto è stato fatto, ma molto c'è da fare per rendere Bergamo sempre più dinamica. Vogliamo che la città sia più accessibile, con i treni da Orio, da Ponte San Pietro e da Montello, con la nuova tramvia della Val Brembana e da Milano, riducendo a mezz'ora la durata del tragitto ferroviario. E vogliamo sia anche più attrattiva, con le sue scuole, l'università, i suoi servizi, il polo della salute, un tessuto commerciale che aiuteremo ad essere più competitivo. Il turismo può ancora crescere, puntando ai visitatori di altri continenti e a far restare più a lungo i nostri ospiti. Ma serve un'offerta ricettiva di maggior qualità e un duro contrasto dell'abusivismo. Faremo tutto questo con un obiettivo, rendere Bergamo sempre più dinamica. Domenica 26 maggio, dai fiducia al tuo sindaco. Vota Giorgio Gori. Grazie a tutti. Grazie a tutti.